Sono Virginie Català, ho compiuto adesso 50 anni, sono di Parigi, ma il suo approccio mi piace molto perché lui comunque da cardiologo ha cercato e ha voluto, cioè lui vuole veramente guarire le persone, non solo curarle, le vuole guarire e quindi ha cercato altre strade, non solo quella della medicina tradizionale, moderna, si è aperto ad altro e questo lo trovo molto coraggioso per un medico. Tante cose che dice, già ti dico il suo approccio veramente era una cosa che è in linea con quello che faccio, però soprattutto il fatto di ripetere questa cosa di dare amore, questo mi colpisce e va bene che lo ripeta sempre, il dare, il dare per più si dà, più si riceve e si dà in modo gratuito perché siamo qua per amare. Voglio proseguire perché sento che mi aiuta il suo corso a tradurre in quello che faccio delle cose che non riesco a tradurre, mi do delle spiegazioni, riesco a tradurre anche alle persone, a me stessa perché riesco ad avere magari più fiducia in quello che ho fatto, a spiegarmelo a me, per poter spiegarlo agli altri, proprio mi dà una traduzione, date amore, gratuitamente, senza aspettare niente, questo dobbiamo imparare, questo è quello che sto ancora imparando, sempre di più, però questo sì.